Il sindaco di Capannori Luca Menesini non cede e ribadisce il suo no agli assi viari se non ci saranno le modifiche da lui richieste, cioè i collegamenti a raso con la viabilità già esistente tra San Pietro a Vico e Marlia, la difesa dei laghetti di Lammari e la modifica del tracciato dell'asse est-ovest, quello che raggiunge il frizzone anche attraverso via Chelini. Inoltre per Menesini la diminuzione del traffico che la nuova viabilità dovrebbe portare su Viale Europa a Marlia è insufficiente, almeno secondo i dati forniti martedì dall'ANAS. Il fatto che il Viale Europa si scarichi del 12% lo ritengo un dato veramente che ci deve far riflettere, vuol dire che alla fine quest'opera per la Piana di Lucca non porta dei benefici. La circonvalazione e il Viale Europa che si scaricano del 12% mi sembra un po' poco per giustificare 100 milioni. Le modifiche porterebbero dei miglioramenti sotto questo aspetto. Non è d'accordo il consigliere regionale Stefano Baccelli, secondo il quale questa è l'ultima occasione per realizzare una tangenziale a Lucca. Si faranno le modifiche che si possono ancora fare, ha detto Baccelli, ma Menesini non può rimettere in discussione adesso il passaggio da via Chelini, peraltro all'epoca voluto con forza dallo stesso comune di Capannori, perché questo vorrebbe dire ricominciare da zero. Secondo lei Menesini li vuol fare o no gli assiviari? Io ho qualche dubbio a questo punto, perché non è un atteggiamento costruttivo quello di Menesini. Mi chiedo in questi tre anni da Presidente della provincia, ad esempio, che cosa ha fatto per stare con il fiatto sul collo, per fare il cane da guardia come io credo doverosamente ho fatto quando ero Presidente della provincia, cioè per sollecitare ANAS e sollecitare anche un gioco di squadra degli amministratori locali, dell'assessore regionale, dei parlamentari, rispetto all'obiettivo di fare un progetto definitivo il migliore possibile. Siamo ancora in tempo, perché c'è da realizzare il progetto esecutivo, ANAS è disponibile ad accogliere le proposte di modifica possibile, io chiedo a Luca Menesini, come a tutti gli altri, di proseguire con un gioco di squadra insieme per migliorare questo progetto, ma non rinunciare alla realizzazione. Tra l'altro, per completare la copertura finanziaria dell'opera, mancano ancora 23 milioni e ce li dovrebbe mettere il Ministero delle Infrastrutture. Litigare adesso, ha aggiunto Baccelli, potrebbe spingere il governo a congelare completamente l'opera.